Guardiamo con attenzione a tutte le esperienze e questa in particolare ha una sua funzione, si colloca nell'area meridionale, quindi quella più delicata del Paese, con un progetto ambizioso di recuperare il primato della politica, di recuperare il rapporto tra le istituzioni e gli elettori e quindi concorre insieme alle grandi forze politiche quel dialogo che le istituzioni non sempre riescono ad ottenere positivamente con i territori. Un Sud che vuole essere protagonista, io sto cercando di governare la Calabria dimostrando che la Calabria può essere protagonista dello sviluppo dell'Italia e dell'Europa come hub dell'Italia e dell'Europa sul Mediterraneo e mi fa piacere quando nascono, si consolidano formazioni politiche che hanno per obiettivo quelle di far diventare il Mezzogiorno protagonista della discussione politica nazionale. L'Italia del Mediterraneo è che si muove nel range dell'eliminazione dei divari e si muove nella logica di superare ogni differenza tra nord e sud del Paese, questa è l'Italia del Mediterraneo e questi sono stati i due giorni che hanno visto protagonista un movimento che è nato già da anni ma che oggi nel diventare partito diventa maggiorenne, si assume responsabilità di essere protagonista nella scelta delle politiche che servono al Paese, per il Paese e per le nostre comunità.